Anche singolarmente questi diritti possono essere esercitati e sollevati dai cittadini di Trieste in quanto sono riconosciuti dal Trattato di Pace che a sua volta è basato sulla Carta dell'ONU, quindi la Carta dei diritti fondamentali che riconosce al singolo, all'individuo, la possibilità di esercitare i propri diritti fondamentali. Ora, il cittadino del territorio libero di Trieste, di Trieste in particolare, che si vede negare i propri diritti sanciti dal Trattato di Pace, può ricorrere alle istituzioni internazionali contro l'Italia sollevandoli. E quindi quello è quello che noi stiamo facendo. E alla fine l'ultimo ed unico giudice comunque garante di questi diritti è rappresentato proprio dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e questo in base sempre al Trattato di Pace, lo ricordiamo, lo ribadiamo, all'articolo 21 del Trattato di Pace e agli articoli 2 e 3 dell'allegato 6 del Trattato di Pace. Infatti il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in base a questi articoli, ha l'obbligo di difendere i diritti fondamentali dei cittadini del territorio libero di Trieste. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite